Mio padre non sta bene, è grave. Il dottor Pino Rosato mi ha dato la notizia e non mi vuole far entrare in ospedale. Nella camera c'è solo lui. Un post che ha allarmato tutti, quello scritto sulla sua pagina social da Antonia De Mita. Il padre, ciriaco a distanza di poco più di un mese dal brutto incidente domestico che gli ha causato la rottura del femore, è tornato in ospedale al Moscati di Avellino per un peggioramento del quadro clinico. L'ex presidente del Consiglio dei Ministri, 94 anni, ha avuto un malessere. Era stato sottoposto un mese fa a un intervento, sempre alla città ospedaliera, a seguito della caduta. Poi il trasferimento a casa nella sua abitazione di Nusco, dove stava seguendo la riabilitazione a domicilio. Ora è ricoverato nel reparto di neurologia. Immediatamente la notizia si è diffusa e sono già tante le attestazioni di vicinanza verso l'ex premier, sperando in una sua pronta guarigione. Le sue condizioni sono costantemente monitorate dai medici, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ha degli alti e bassi, spiega il dottor Rosato, suo medico personale, ma come è naturale che sia, alla sua età e considerando che appena un mese fa ha subito la rottura del femore e un intervento chirurgico. Nelle prossime ore, in attesa di un miglioramento delle condizioni, De Mita dovrebbe essere trasferito in una clinica privata per proseguire la riabilitazione successiva all'intervento, a cui era stato sottoposto a febbraio.